Allora, iniziamo un via e do subito la parola a Eusebio, così non per visto che l'argomento è vario, vasto e ampio, non perdiamo tempo, giusto? È vario, vasto e ampio perché l'argomento è massimo barra, quindi non riusciremo certo a chiuderlo stasera. Un saluto ovviamente a tutti, grazie per essere qui, grazie a Massimo. Dietro di me c'è la fiaccolata, la fiaccolata di Solferino perché domani è il 24 giugno, ricorrenza della battaglia da Solferino da cui nasce quell'idea che Massimo porta nel cuore, intanto da intitolare il suo libro Crucerosa, amore mio. Domani sono 162 anni da quella sanguinosa battaglia che lasciò centomila persone fra morti e feriti a terra, presenta Riquirant e gli venne in mente l'idea di Crucerosa. L'idea di Crucerosa che, oltre al simbolo che tutti conosciamo, Massimo porta dentro, in prime perché io ancora mi ricordo quando mi impresse il sigillo dei sette principi, umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità, che è la storia che potete leggere nel libro che inizia dalle sue scuole elementari dal 1947-1958, poi da lì in poi è tutta una battaglia, nonostante si parli di un'organizzazione di pace, inizia con la battaglia dei pionieri nel 1958 e la battaglia dei VDS, dei volontari del soccorso nel 1976, la battaglia per la Crucerosa un po' tutta fino ad oggi. Quindi questa idea che hai nel cuore, Massimo, gli hai dedicato la vita, a un certo punto hai sentito il bisogno di scriverla. di comunicarla in una raccolta di appunti cronologici interessanti, che possono essere approfonditi appunto anche sul sito web, che condivido solo brevemente, che appunto noi vediamo un placido signore che sta lì seduto, ma questa è la solo la fotogallery del tuo sito del 2007, nel 2007 ecco, ti abbiamo anche in versione Top Gun, ti abbiamo in Afghanistan, ti abbiamo in giro come sempre conferenza interamericana, Georgia, Ostezia del Sud, qui poi ce lo racconti che cosa hai fatto col presidente della Croce Rossa francese, Bamako in Mali, Bamako, pardon, Ramalla e via dicendo. Perché questo libro, Massimo? Cos'è questo tuo amore? Ti devo dire com'è andata? Il libro non l'ho scritto io, l'ha scritta una signora che mi aveva chiesto quando ero presidente se mi poteva incontrare, mi ha fatto questa offerta e io sono disponibile a fare la sua biografia. E io gli ho detto, va bene, parliamo, io le racconterò un po' di eventi e così è nato il libro che non ho scritto io, è un libro che è stato scritto da una signora alla quale si è appassionata a fare questa storia e quindi è uscito fuori questo libro che evidentemente è un po' mosso perché nella mia vita mi sono mosso tanto, sono stato in 120 paesi e quindi posso dire di aver conosciuto il mondo non da turista ma dietro la facciata il mondo che non si fa vedere che è il mondo dei poveri, il mondo della guerra il mondo delle liti, della povertà e quindi chiaramente la mia vita è stata totalmente condizionata all'età mia uno si può chiedere ma ne è balza la pena oppure no? E io onestamente devo dire che ne è balza la pena e quindi non rinnego niente e finché ho lo chassi che mi sostiene continuerò nella stessa direzione hai passato una fiaccola, queste fiaccole della fiaccolata di Solferino tu sei una fiaccola importante, l'hai raccolta da bambino e l'hai passata a tante altre persone l'universalità migliaia, migliaia beh, io credo che i principi fondamentali sono ancora una cosa molto importante sono un manifesto i principi fondamentali principi fondamentali non nascono nel 65 alla conferenza di Vienna sono un processo continuo che nasce dall'evidenza, dagli approfondimenti, dagli scambi la Croce Rossa internazionale ha una struttura molto particolare, molto intelligente forse un po' complessa e di difficile comprensione infatti la gente parla di Croce Rossa internazionale senza sapere di che parla confonde la Croce Rossa nazionale con la Croce Rossa internazionale pensa che ci sia un presidente della Croce Rossa internazionale cosa che non è e non sa com'è strutturata perché è molto complicata ma anche molto intelligente nel senso che è un insieme di bilanci, di equilibri che assicurano l'ordinato sviluppo che può avere dei periodi di stanca perché è sempre un'organizzazione fatta da uomini e da donne in cui le leadership sono importanti per farla vivere e se c'è un periodo di scarsa leadership l'organizzazione, come tutte le organizzazioni, le risente negativamente queste fiaccole devono essere tenute in mano da persone quindi sono le persone che fanno sempre e solo tutto il lavoro e la differenza il principio dell'universalità è quindi la cosa più complessa del movimento di Croce Rossa? non lo so se è il principio più complesso io credo che anche l'imparzialità sia molto complessa perché l'imparzialità comprende anche un altro sub-principio che è la proporzionalità per cui se c'è un conflitto la Croce Rossa aiuta non facendo 50-50 ma in proporzione alle vittime e alle persone vulnerabili e sofferenti fare 50-50 sarebbe un concetto politico c'è un conflitto tra arabi e israeliani io aiuto l'uno e l'altro ma in realtà noi questo non sarebbe umanitario sarebbe politico umanitario deve essere che se c'è una sofferenza al 70% da una parte e al 30% dall'altra la Croce Rossa deve aiutare 70-30 e questo è un principio difficile da capire che non tutti capiscono e che è difficile da mettere in pratica difficilissimo da mettere in pratica quindi il concetto di imparzialità secondo me è uno dei concetti più importanti e più particolari della Croce Rossa e poi c'è quello di neutralità che vuol dire la neutralità? Noi ci hanno accusato di non prendere posizione che la Croce Rossa non prende posizione per essere neutrale però ci sono degli eventi in cui non prendere posizione può rasentare la complicità pensate all'evento di Abu Ghraib Abu Ghraib la Croce Rossa ha fatto il suo dovere ha fatto la visita a Abu Ghraib non si è turbata più di tanto ha fatto rapporto agli americani che era il suo dovere ma non è cambiato niente se poi questo rapporto è finito sul Wall Street Journal è successo l'ira di Dio e forse non è stato un merito della Croce Rossa perché la Croce Rossa è stata strettamente neutrale anche il rapporto dialettico tra pubblicità e silenzio ci sono organizzazioni che basano tutto sulla pubblicità anche Mezzezza Frontier altre NGO umanitarie Amnesty pubblicità Croce Rossa non fa pubblicità c'era un vecchio presidente del Seiser che diceva la Croce Rossa non è importante per quello che dice ma per quello che fa che è giustissimo ma questo lo diceva settant'anni fa oggi se non appari non esisti è un'autolimitazione e questo è uno dei nodi per il futuro cioè in un mondo interconnesso in cui ognuno sa tutto ognuno può apparire come noi appariamo adesso il silenzio o il non apparire rischia di diventare un handicap allora qual è il rapporto? perché sia ortodosso deve essere favorevole alle vittime quindi l'equilibrio è che sia favorevole alle vittime cosa è più importante? che la Croce Rossa parli delle storture che vede delle violenze dei crimini che vengono continuamente commessi tutte le vittime o stia zitta? io ho dei seri dubbi beh c'è un limite delicato perché la Croce Rossa entra in alcuni posti proprio perché è chiaro è chiaro proprio che sta zitta però comunicare non significa cioè essere riservati su alcune attività purtroppo drammatiche non significa non dover comunicare gli ortodossi del silenzio assoluto dicono che noi abbiamo accesso ovunque proprio in funzione del silenzio assoluto e se venisse meno la confidenza dei governi nei confronti della segretezza della Croce Rossa chi ci rimetterebbe di più sono le vittime che hanno l'unica possibilità parliamo dei prigionieri di guerra dei prigionieri in generale l'unica possibilità di comunicare col mondo è attraverso i delegati del comitato internazionale quindi chi ci rimetterebbe alla fine sarebbero proprio le vittime che noi vogliamo tutelare ma è ancora però siamo su su un crinale stretto siamo su un crinale stretto che si presta anche a strumentalizzazioni e a misunderstanding e a cattive interpretazioni io penso che il mondo è cambiato che non è più il problema della battaglia di Solferino che oggi chi non appare non esiste e quindi la Croce Rossa deve fare uno sforzo per apparire anche perché non vengono più dichiarate le guerre se vogliamo essere certo è talmente diffusa la guerra che non c'è più bisogno neanche le belle guerre di una volta quando l'ambassatore portava la dichiarazione di guerra e si sapeva chi faceva che chi stava dove chi era per una cosa e chi era per un'altra oggi non si sa più niente non lo sanno neanche quelli che combattono le guerre chi sono gli alleati le guerre sono un fenomeno liquido liquido in cui ci sono tantissimi attori sconosciuti o poco conosciuti e in cui è molto facile che le persone che dovrebbero essere tutelate dalle convenzioni di Ginevra cioè i non combattenti sono quelle che poi ne pagano la più grossa conseguenza questo è un altro dei nodi della Croce Rossa nel terzo millennio ma ci sono numeri cioè sempre rimanendo in via riservata gli interventi che sono possibili grazie a questa assoluta segretezza nel corso degli anni sono mantenuti più o meno dati stanno scemando aumentano perché questo pure per prendere una decisione in un movimento così complesso bisogna basarsi sui fatti ma gli interventi sicuramente aumentano almeno aumentano anche i budget il budget del Comitato Internazionale non è mai stato così elevato eh come oggi perché focolai eh di conflitto armato per non chiamarlo guerra conflitto armato si sono moltiplicati in tutto il mondo e lì c'è la certezza che nel conflitto armato c'è la Croce Rossa questo eh è psicologicamente eh tranquillizzante che lì dove non c'è più niente dove non c'è più umanità in the last mile comunque c'è ancora la Croce Rossa anche se c'è una discrepanza tra i bisogni umanitari del mondo è la risposta e noi siamo consapevoli di essere dei grani eh dei chicchi di grano rispetto a una montagna di bisogni però siete gli undici che ci vanno nel senso ci sono tante altre ONG che possono arrivare fino al secondo miglio all'ultimo ci arriva sempre solo la Croce Rossa quindi forse questa riservatezza sì è chiaro che il mio problema non è di non essere riservati il mio problema è il mondo che cambia rapidamente eh eh quando mai c'è stata il villaggio globale in cui tutti sanno tutto o credono di sapere tutto in cui tutti giudicano in cui tutti sputano eh violentemente la loro opinione che fa la Croce Rossa in questo villaggio globale è attaccata alla sua storia è attaccata alla routine è in grado di giudicare di e di eh giustificare il suo comportamento in maniera accettabile ma io credo che noi dobbiamo andare oltre idee quali sono le nuove attività perché evidentemente cambiano anche l'attività da fare quindi comunicare ma non penso che tu pensi semplicemente a fare i social i manifesti e cosette del genere forse va veicolato un nuovo messaggio ma sul sulla priorità mi sembra che siamo ben posizionati la priorità è l'assistenza alle persone più vulnerabili che vuol dire vulnerabile vulnerabile se la passa peggio di uno che non è vulnerabile perché uno è vulnerabile è ci nasce vulnerabile è un fatto cromosomico è un fatto ambientale è un fatto esistenziale certo un vulnerabile se la passa peggio di uno non vulnerabile e the most vulnerable people sono la priorità della Croce Rossa quale che sia l'evenienza che l'ha reso vulnerabile quindi anche le nuove vulnerabilità di cui a me come voi sapete stanno a cuore quelle legate al consumo di droga e in cui la Croce Rossa è ben posizionata proprio perché è intermediaria neutra c'è uno slogan che chiamiamo molto bridging the gap bridging the gap in ogni circostanza tra paesi che sono in conflitto fra di loro tra popoli diversi tra situazioni diverse mettersi in mezzo stare intermediario neutro tra le parti questa è una frase che tu puoi adattare a qualunque circostanza quindi non ci sono limiti all'intervento all'intervento della Croce Rossa i limiti sono il budget il budget e i limiti sono l'aderenza della gente l'adesione della gente in questo il trend non è positivo allora se vai a vedere le statistiche che non sempre sono veritiere di quanti centinaia di migliaia e milioni di persone sono soci della Croce Rossa c'è sempre stata un'ambiguità tra il socio quotizzatore che dava un obolo e il socio attivo e questo tirava su le statistiche perché per esempio tutti gli operai dell'Unione Sovietica pagavano obbligatoriamente dieci copecchi per essere membro della Croce Rossa sovietica quando l'Unione sovietica ha collassato ha collassato la Croce Rossa sovietica perché si è trovata di botto senza i milioni dei fatti dei dieci dei dieci copecchi poi ci sono i soci attivi ma il criterio per giudicare un socio attivo è fast changing cambia a seconda le persone le maggioranze non è un criterio oggettivo e infatti se voi andate a vedere le statistiche non ci credete non ci vedete le statistiche sono alterate qui cambiano da un mese all'altro da un anno all'altro un milione due milioni di persone prima dichiaravamo 100 milioni ma c'erano i sovietici poi siamo scesi adesso siamo gli ultimi stati 17 milioni nel mondo e credo che questa sia una valutazione influenzata dalle burocrazie che non hanno interesse a dire la realtà ma a dipingerla in maniera così in maniera positiva io non credo che ci siano 17 milioni di soci attivi della Croce Rossa del mondo e se vogliamo stabilire un trend se vogliamo stabilire un trend il trend è negativo hanno pensato che tanti erano aderenti alla Croce Rossa per il dopo guerra la Germania la divisione della Germania la caduta del muro di Berlino abbia ridimensionato l'interesse della gente per essere volontari di Croce Rossa qui stiamo sull'opinabile sulla cosa reale non stiamo growing non stiamo in salita sono in salita probabilmente le NGO cioè le organizzazioni non governamentale cosa che la Croce Rossa non è perché la Croce Rossa è intermediario neudo tra le parti e non è né pubblica ma né privato ma è l'unica eh organizzazione della società civile che è ausiliaria dei governi nelle loro attività umanitarie quindi è una posizione unica che non condividiamo con le altre organizzazioni della società civile è un bene o è un male se le NGO si moltiplicano e la Croce Rossa perde aderenti è un bene o è un male e la Croce Rossa ha un apparato non dico mastodontico ma comunque molto influente che fa sì che alcune persone a un certo momento non si sentano più libere di agire il fondatore Kushner di Mersenza Frontiere è uno che stava in Croce Rossa si è stufato Maria Pia Fanfani nel suo piccolo stava in Croce Rossa a un certo momento si è stufata e si è creata la sua organizzazione è la stessa la stessa dinamica se un'organizzazione cresce ha bisogno di un apparato burocratico che poi rischia di diventare dominante per cui c'è un conflitto un conflitto perenne tra il volontarismo il gettare il cuore al di là dell'ostacolo e le regole della burocrazia che sono fondamentali per un organismo così complicato perché guardate che la croce Rossa è complicata è proprio complicata d'altro canto per poter rendere compatibili persone di 191 paesi senza che succeda niente di drammatico e beh le regole devono essere dure e devono essere rispettate il diritto internazionale è poco conosciuto Giancarlo hai alzato la mano? accendi il microfono per favore per adesso hai spento la telecamera Fabio eccomi riabbassa la mano di mano alzata qualche problema di velocità tecnologica che insomma un po' manca io intanto volevo ringraziare Massimo per questa efficace sintesi della situazione attuale io non sono più in prima linea come volontario di Croce Rossa però chiaramente il cuore è rimasto è rimasto lì ed è impossibile uscirne io mi chiedo sempre di fronte ai drammi che l'umanità come ricordava Massimo in tutto il mondo sta passando la Croce Rossa mi sembra che non si veda probabilmente non è vero c'è agisce noi rimaniamo fissi fedeli pur nella evoluzione dei tempi delle culture delle situazioni a quelli che sono i principi fondamentali del movimento però io personalmente ho l'impressione che non si veda sui nuovi campi di battaglia che poi i campi di battaglia non sono perché sono relazioni tra faide tra paesi però non vedo che i gravi problemi le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario abbiano nella Croce Rossa una protagonista sento più l'ONG che la Croce Rossa in questi frangenti anche se per esempio sul territorio italiano è sempre molto presente il covid ha mobilitato le migliori sempre presenti risorse del volontariato della Croce Rossa italiana lo stesso negli altri paesi però laddove la gente soffre la fame la carestia le malattie la guerra non la vedo e questo mi fa molto dispiacere e vorrei essere smentito considerando pure evidentemente tutto quello che Massimo ci ha ricordato e che è un la Croce Rossa ha sempre necessità di una di avvalersi di una bilancia tra le sforzi e il tutelare le vittime e questo abbiamo imparato da ragazzini quindi questo è però forse come anche Massimo accennava esporsi un po' di più trovare un nuovo equilibrio più avanzato e più consono più in linea con il mondo moderno cioè quello di far vedere un po' di più quello che facciamo rinunciando non dico alla neutralità ma perlomeno alla riservatezza che ci impone che ci impongono i principi ecco questo forse servirebbe non vedo una Croce Rossa particolarmente presente a risolvere nel mondo i problemi gravissimi che il mondo ha tutto qua grazie Massimo commento beh sai è sempre una questione di quantità di fronte ai bisogni del mondo noi scompariamo cioè di fronte alle sofferenze del mondo non possiamo dire che la Croce Rossa abbia un grande impatto forse mettendo insieme la Croce Rossa e tutte le NGO forse il fatturato umanitario aumenterebbe ma i bisogni del mondo sono talmente vasti sono così drammatici la qualità della vita della gente è così bassa che è difficile che un'organizzazione possa cambiare la qualità della vita delle persone perché noi siamo dei privilegiati noi possiamo fare filosofia noi comunque a tavola ci andiamo quindi è accademia ma in tante parti troppe parti del mondo questo non avviene e non facciamo i populisti o i pauperisti perché in fondo in tante parti del mondo il PIL è aumentato enormemente poi è più facile che aumenta un PIL basso piuttosto che un PIL alto è un problema matematico quindi aumenti del 10 del 20% del PIL se l'abbiamo visti anche in Africa ma partivano così bassi che non c'era non si nota un cambio che faccia la gente felice felice forse la Cina è riuscita in un miracolo perché io mi ricordo io sono stato uno dei primi a essere invitato in Cina sono andato nel 1980 nel 1980 gli stranieri non c'erano ci additavano eravamo in due ci additavano col dito questi strani individui che si vestivano in maniera diversa dagli altri che erano tutti quanti vestiti allo stesso modo le poche macchine avevano difficoltà a voltare a destra perché c'era una marea di biciclette e quindi voltare a destra voleva dire interrompere questa marea e la gente era povera tant'è vero che in tutti i programmi di sviluppo c'era una copiosa assistenza alla Cina io mi ricordo i tempi in cui i paesi occidentali aiutavano la croce rossa cinese per i suoi compiti nello spazio di una generazione è cambiato tutto la Cina non è più un paese povero anzi è una Cina imperialista che riesce a comprare dappertutto dovunque vai c'è una miniera d'oro comprata dai cinesi che poi inquina con l'acqua l'acqua reflua dovunque trovi situazioni di questo genere ma questo è frutto di uno sviluppo quindi evidentemente lo sviluppo si può fare sviluppo è stata una parola chiave di quando ero giovane io development poi development ha mostrato gli aspetti negativi e quindi è diventato sustainable development sostenibile adesso nessuno parla più di development c'è tutto è diventato resilience è la moda del periodo anche a livello internazionale non so quale sarà la prossima moda le mode cambiano ogni dieci anni development development sustainable development resilience ma chi sta male ancora sta male continua a stare male e tanto più sta male tanto meno viene assistita ed è questa la grande maggioranza della popolazione mondiale quindi noi facciamo tanto la croce rossa siamo orgogliosi gli abbiamo dedicato la vita non voglio dire che siamo comunque impotenti di fronte alle necessità del mondo però dobbiamo essere consapevoli che le necessità del mondo sono growing 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 il nuovo modo di fare la guerra che non tutela le popolazioni civili anzi adesso si sta discutendo con la ciberguerra che succede chi è accountable se il drone ammazza una persona quali sono le nuove regole sapendo che le regole minuziose pedisseque delle convenzioni di Ginevra la maggior parte non le rispetta perché non le conosce neanche perché i combattenti non statuali che sono la maggior parte non gliene frega niente delle convenzioni di Ginevra tutti tutti quelli che rubano che che assaltano che hanno ammazzato l'ambasciatore italiano e voi parlate delle convenzioni di Ginevra è è è è un nostro come dire eh giocattolo col quale ci possiamo accapigliare quando si si radunano i giuristi e stanno magari delle ore a discutere sull'articolo ventinove qual è il significato ma l'impatto sul mondo è basso è basso stiamo perdendo l'universalità Massimo che era l'ultimo principio forse va messo in testa no 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 l'universalità è è un sacro principio centonovantuno società nazionali che si articolano democraticamente che fanno le loro assemblee generali che eleggono democraticamente i loro organi questo per il mondo da un punto di vista politico è un edit value cioè che c'è un'organizzazione che dimostra che si può coesistere tra gente di tutte le razze che hanno un minimo comune denominatore appunto i principi fondamentali quindi questo è un valore intoccabile intangibile della Croce Rossa non è un valore materiale è un valore morale però nei nostri sogni pensiamo che anche questo aiuta il mondo a non naufragare definitivamente il bridge allora chi lo costruisce perché il comitato centrale diciamo la riservatezza assoluta è impegnato nel fare quello che si faceva da Solferino in poi il movimento più ampio in particolare le società nazionali possono comunicare cioè fare una una cosa mirata per costruire quel bridge che dicevi prima cioè parlare di bridge se io intanto vorrei chiarire noi lo sappiamo eh l'esatta dizione è il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzarue Rossa questo è sinonimo di Croce Rossa internazionale il movimento internazionale ha due istituzioni Ginevra Base il la federazione internazionale il comitato internazionale e cento novantuno società nazionale questo insieme si chiama movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzarue Rossa sono importanti anche gli stati perché nell'unica organizzazione in cui gli stati siedono con parità di diritti e di doveri nel nel più alto organo del movimento che è la conferenza internazionale in cui infatti gli stati hanno un voto e la società nazionale dello Stato può votare anche in maniera diversa questo è poco poco conosciuto proprio perché lo Stato ha una priorità politica mentre la Croce Rossa ha una priorità umanitaria e quindi non è detto che devano votare allo stesso modo è una struttura complessa terribilmente complessa ma it works funziona e quindi prima di fare modifiche statutarie ci metterei proprio l'anima in pace di non fare modifiche modifiche statutarie no no assolutamente missions cioè darsi l'obiettivo per l'ambiente di Ennio sì la differenza che noi diciamo alla gente tra la federazione e il comitato internazionale è che il comitato internazionale fatto da cittadini svizzeri esclusivamente da cittadini svizzeri si occupa dei conflitti in tempo di guerra mentre la federazione si occupa di fare assistenza a the most vulnerable people in tempo di pace ma poi ci sono le situazioni ni de pe ni de guerre in cui è difficile capire chi deve intervenire è difficile capire chi deve comandare perché le operazioni sono complicate e le organizzazioni sono fatte da uomini e gli uomini cercano il potere e anche le organizzazioni sono basate sul potere sulla ricerca del potere per la sopravvivenza e quindi la crescita si ha cercato dei compromessi facendo un agreement tra tutte le parti in causa che è l'agreement di Siviglia in cui c'è scritto che per ogni situazione di conflitto o di dubbio se comanda il comitato internazionale o la federazione si deve fare un agreement in cui è esplicitato chi è che comanda e naturalmente comanda il 6SER se è più prevalentemente di guerra comanda la federazione o la società nazionale se è più un fatto di catastrofe naturale comunque non collegata ad un conflitto armato ma anche questo non è facile poi applicarlo nel dettaglio nel day to day nell'attività day to day è complicato però almeno la croce rossa ci ha provato a mettere un segnale divisorio tra intervento in tempo di pace e intervento in tempo di guerra poi ci sono pure quelli che dice ma vale la pena avere due organizzazioni anziché una cioè non sarebbe più logico avere la croce rossa internazionale che poi si divide a seconda degli scenari e non due organizzazioni autosufficienti con il loro potere e che non raramente entrano in conflitto fra di loro sul terreno questo noi siamo siamo nati col mito del comitato internazionale svizzero e della federazione internazionale universale io non ci arrivo non ci credo ho dichiarato alcuni anni fa nei prossimi cinquant'anni questo non avverrà e la storia mi sta dando mi sta dando ragione il principio di unità stiamo discutendo perché me ne sto spuntando tutti stiamo discutendo il principio di unità che proprio in Italia è messo in discussione perché nel momento in cui i comitati locali hanno un loro statuto è una loro partita IVA il principio di unità che si dovrebbe tradurre dal francese più correttamente di unicità esiste una e una sola società di Croce Rossa sul territorio nazionale è aperta a tutti ok nel momento in cui tu fai un comitato che ha la sua partita IVA il comitato se ne frega dell'unicità fa gli affari suoi fa il suo budget e se di vicino c'è un altro comitato magari è capace di andare anche in competizione questo sistema barbaro per cui l'assistenza viene appaltata come se fosse una fabbrica di mattonelle che va a chi la offre a prezzo più basso qui stiamo parlando di assistenza cosa immateriale che è difficilmente monetizzabile perché io posso fare dumping e poi tratto male gli ammalati e questo è quello che succede ma hanno scoperto che nelle RSA gli ammalati sono trattati male ah benvenuti benvenuti e questo è il flutto delle varie cooperative che devono fare il dumping cioè devono offrire di meno al massimo ribasso il massimo ribasso lo puoi fare con le mattonelle non le puoi fare con i cristiani bene siamo quindi arrivati alla volontarietà mi stai guidando tu beh il principio del volontari service è è è connaturato alla Croce Rossa se non ci fossero i volontari non ci sarebbe la Croce Rossa e quindi bisogna promuovere l'idea l'idea è in grado di cambiare il mondo l'idea è in grado di cambiare una vita ma mica solo la mia cioè l'idea dei principi fondamentali è inspiring perché ci sono molte idee inspiring in questo mondo la Croce Rossa è una che va tutelata perché ha l'idea e l'ideale che è inspiring e inspiring in differenti setting non necessariamente in un paese avanzato ma anche in un paese povero la vision se posso se posso volevo fare una domanda al al dottor Barra mi sentite? sì sì niente a proposito del nostro principio di indipendenza prima di tutto le volevo fare i complimenti perché io la seguo da tempo e la stimo tanto le volevo chiedere a proposito del nostro principio di indipendenza lei ritiene ancora opportuno in essere visto il mondo come è cambiato la nostra ausiliarità dunque il concetto di ausiliarietà sì il concetto di ausiliarietà è stato molto stiracchiato a destra e macro perché l'ausiliarietà nasce come ausiliarietà della Croce Rossa rispetto agli eserciti e ai servizi di sanità militare in campagna di guerra così è nata l'ausiliarietà che gruppi di volontari assoggettati agli usi e costumi militari in tempo di guerra sono ausiliari dei servizi di sanità militare poi il concetto sì ma anche perché i servizi sanitari allora non erano quelli di oggi insomma certo evidente dopodiché l'ausiliarietà si è allargata e è diventato un concetto più ampio ausiliarietà dello Stato dello Stato e poi ancora più largo ausiliarietà delle articolazioni dello Stato ai vari livelli per cui la Croce Rossa nazionale è ausiliaria del governo italiano mentre la Croce Rossa che speriamo di creare a Fiuggi sarà ausiliaria del comune di Fiuggi quindi è un concetto direi connaturato alla Croce Rossa e questo non penalizza un po' il nostro principio di indipendenza eh beh l'obiezione è assolutamente legittima specialmente se viene interpretato poi prodotto sua come come una convenzio ad escludendum degli altri diciamo noi siamo ausiliari voi non lo siete che da un punto di vista della dottrina è una bestialità che in realtà non è il corpo che è ausiliario è la Croce Rossa che è ausiliaria che poi si serve di alcuni corpi a cui può delegare ma non è detto non è obbligatorio in realtà è la Croce Rossa nel suo insieme che è ausiliaria dei poteri pubblici ed in particolare dei servizi di sanità militare poi lì è contingente vedere eh se serve non serve roba vecchia eh è questo si mischia al concetto di potere concetto di potere io ho imparato lo potete incontrare a tutti i livelli anche il portantino che pulisce il corridoio e si incavola se qualcuno passa sul eh cosa bagnato sul corridoio bagnato esercita il suo potere perché può far bloccare perfino il primario a voi pensate che veramente i portantini gli interessa così tanto la pulizia da dover bloccare tutti o è una forma di potere dice ma che potere è? è un potere sai uno diviso uno è uguale a cento diviso cento quindi non è importante quello che sta assurda ma il denominatore è quello che sta assurda e voi potete secondo la mia esperienza decodificare qualunque elenienza della vita quotidiana in funzione del principio del potere tutti i match i match dei condomini i condomini è il posto del conflitto gratta gratta hanno un problema di potere voi decodificate tutto pensando dove sta il potere qual è il motivo che spinge una posizione piuttosto che l'altra è il potere sì ma questo dottor Barr ci lascia anche poca libertà di visibilità come lei lei diceva prima cioè rispetto alle ONG che sono più libere di di essere presenti diciamo di essere visibili noi siamo sempre un po' arretrati in questo senso sicuramente siamo più complessi soprattutto la vicenda di Bernard Kuchner fondatore di Messenza Frontier ma anche di Maria Pia Fanfani che io ho frequentato abbastanza noi non siamo chiamati a dare giudizi storici sulle persone sui sentimenti sull'esibizionismo sulle motivazioni delle persone però io l'ho vista la Fanfani soffrire dei suoi rapporti con il comitato centrale perché il comitato centrale non capiva quello che faceva lei e l'ha boicottata in tutti i modi fino a che lei ce n'è avuto le scatole piene e si è fatta la sua croce rossa uniti per la pace insieme per la pace e finalmente si è potuta sfogare se è successo più volte evidentemente è connaturato la patologia anche della croce rossa ringrazio Maria perché mi ha fatto depennare anche l'ultimo dei principi indipendenza abbiamo fatto un giro dei principi sul vissuto di Massimo anche se ovviamente in sintesi però questi principi sono quindi vivi non sono scolpiti sulla pietra sono scolpiti col sangue delle persone che li portano avanti ogni giorno non tiriamo conclusione perché non stanno a tirarle ma certo Massimo ha dato delle indicazioni ha dato delle linee guida da seguire che dovrebbero essere prese in considerazione la prossima fiaccolata di Solferino per causa Covid sarà online quindi diciamo promuoviamo la fiaccolata virtuale di Solferino che è uno dei pochi momenti di comunicazione di questa Croce Rossa e speriamo che soggetti attivi come Maria spingano una comunicazione sugli aspetti di competenze che io quando ero in Croce Rossa ho conosciuto Massimo da me 40 anni fa non erano non fagliano parte della formazione del pioniere né del volontario forse questi aspetti Massimo ci vuoi parlare dei tuoi corsi della sua fondazione quali sono i punti critici che potrebbero essere messi a catalogo per tirare su forse una classe dirigente della Croce Rossa bisogna fare i corsi i corsi in continuazione noi del campo della droga in continuazione qui abbiamo decine di allievi che vengono con grande entusiasmo e che apprendono cose dall'esperienza che non apprendono e non potrebbero apprendere fuori quindi la formazione è vitale per creare cittadini attivi e che diano un contributo non che approfittino per esempio del lavoro a casa per non lavorare cosa che pure è successa grazie grazie al covid o per schizzare schizzare le persone col presupposto di doversi difendere dal covid perché pure questo è successo e sta succedendo ti propongo quindi visto che non l'hai detto tu un corso sul negoziato certo tutto quello che è negoziato eccetera fa vivere la gente meglio c'è una domanda da Fiugi Fiugi a te la parola apriti il microfono innanzitutto rimango veramente sterefatta a parte dall'umanità che ha Massimo e dalla spiritualità perché certamente se non si hanno queste due doti non si può non condividere tutto questo stato che poi gira intorno no cioè io sono bravissima e poi gli altri che non me lo permettono è diventato di tutto invece lui proprietario di due cose essenziali ha superato la bandiera e quindi è andato avanti in maniera veramente straordinaria e io chiedo a Fabio Treddi di avere questa registrazione perché mi occorre per entrare in un contesto che non conoscevo abbastanza per quanto riguarda sono d'accordo per i corsi per i corsi i corsi sono essenziali perché a parte che c'è è un momento questo qui dove vengono anche finanziati i corsi no perché ci sono molti progetti e quindi abituare i giovani a questa tipologia di volontariato che abbiamo non volontariato perché è volontariato ma anche di umanità cioè il nuovo umanesimo dove sta? sta nella croce rossa però facciamolo vedere scusate se parlo un po' di fretta perché nel senso che non ero preparata a quello che diceva Massimo non ero proprio preparata e se l'avessi saputo prima io diventavo come la la cosa rossina di 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 Fiuci nel senso perché Fiuci purtroppo no purtroppo sono proprio volontariato quindi devi averlo dentro giusto Massimo? giusto giusto se non non c'è mi vorrei ricordare così l'ultimo slogan del movimento saving lives changing mind quindi non solo saving lives ma anche changing minds changing minds non è un'attitudine particolarmente neutrale devo dire cambiare le mentalità cambiare le mentalità perché chi governa governi nell'interesse del popolo maria devi aprirti il microfono se puoi commentare eccomi no niente io volevo dire che io sono una croce rossina e avevo sospettato avevi sospettato e comunque sono pure un'istruttrice di diritto internazionale umanitario però ho scoperto facendo il corso di specializzazione in principi e valori in quelle persone il vero spirito della croce rossa persone che credevano e credono ma proprio svisceratamente nei principi di croce rossa e che me li hanno fatti vedere sotto altri aspetti ora siccome sono una persona che è molto curiosa quindi le piace spaziare le piace interessarsi tante cose adesso sto affrontando un'altra un'altra sfida l'apertura di uno sportello sociale nel mio comitato e sto facendo un corso un corso che per me è arabo perché non è il mio campo tutto quanto mi sto impegnando ecco proprio a proposito dell'ostracismo che si trova ho contattato la mia delegata del sociale e ho avuto risposte ostili di chiusura completa proprio cioè che a volte come diceva prima il dottor Barra ti portano a scoraggiarti a desistere io però sono testarda quindi ricordo che la registrazione pubblica e vabbè figurati glielo ho detto pure di persona non non c'ho problemi glielo dirò quando ho finito il corso e vorrò fare veramente questo sportello sociale non c'è apertura mentale ecco il potere anche nel volontariato fare che chissà che cosa sia insomma il potere è potere è quello è niente volevo trasmettermi trasmettervi questa esperienza grazie grazie a te Massimo per avermi dopo 40 anni ricordato i principi della Croce Rossa grazie per essere stato con noi ne parleremo nella tradizionale grigliata annuale in cui in genere ci vediamo perché potremmo fare qualcosa insieme adesso il presidente a cui cedo la parola per le conclusioni sarà ovviamente impegnato nel proseguire le idee qualche seme che abbiamo visto cadere sul terreno fertile in questa calda serata d'estate che è stata comunque sempre interessante perché l'umanità primo principio della Croce Rossa in Massimo è forte e ampia e quando ne condividi un pezzetto è sempre un'esperienza grazie Massimo grazie al circolo a te Fabio grazie grazie Massimo grazie a tutti di essere intervenuti grazie a tutti 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 disposizione. Bravo. Siete tutti welcome. Grazie. Poi parliamo anche del corso eh. Eh? No dicevo poi che chiamiamo anche Giancarlo per fare il corso. Tu stai lì sornione. Conventieri. Penso di essere ancora capaci. Lo riattiviamo. Grazie. Arrivederci. Grazie. 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 A tutti. Tampato ventisei c'è l'evento online sulla fiaccolata di Solferino eh. Partecipate numerosi. domani. Bene. Il ventisei. Domani ricorre il centosessantodesimo anniversario. La fiaccolata online si farà sabato. Beh arriverà il link no? Lo metteremo allora. Proprio per fare comunicazione come dice Massimo. Se dobbiamo comunicare la Croce Rossa la comunichiamo. Va bene. Grazie molte. Grazie a tutti e buona settimana. Grazie. Ciao Fabio. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.